Dal test di ammissione a medicina del 2017, una scalatrice di massa 50 kg si arrampica fino alla cima di una parete di roccia verticale, compiendo un lavoro pari a 6000 joule. Quanto è alta approssimativamente la parete scalata? Usiamo il teorema dell'energia meccanica. La variazione di energia cinetica della scalatrice più la variazione della sua energia potenziale è uguale al lavoro della scalatrice. Immaginando che la tipa parta da ferma e arrivi ferma, ΔK vale 0. ΔU è la variazione dell'energia potenziale della forza peso, che è uguale alla massa della scalatrice per l'accelerazione di gravità per l'altezza scalata ΔH. Isolando ΔH e approssimando G a 10, troviamo 12 metri. Risposta B.